Salve a tutti, sono Mauro Gerbi e sono qui per presentarvi il Gold Sunset, è un ingrediente del gusto deciso da bere sia l'aperitivo che nel dopo cena. Gli ingredienti che vanno a un bordo sono una zonetta di zucchero, quattro scussi di angostura, 5 ciali di martini gold e 2 ciali di prosciutto. Come potete vedere ho già preparato una coppetta martini ghiacciata per poter preparare subito con la preparazione del drink. Una zonetta di zucchero, angostura, martini gold e il prosciutto. Diamo una leggera mascherettina per facilitare il l'alimenta del zucchero. E andiamo a decorare con delle fattine di mela verde, un picco zubo e due ciliegine rocce. Eccovi il Gold Sunset. Grazie a tutti.